Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video, come vedete sto registrando con la GoPro perché siamo nuovamente a Puken Marina e perché oggi faremo un'altra escursione, ma sarà un'escursione di mare, andremo a visitare le famosissime P.P. Island anche se non sarà un'escursione dedicata a loro perché parlando con la guida c'è stato detto che ogni giorno alle P.P. Island sbarcano quasi 7000 persone quindi fare un tour, un'escursione dedicata solo per quelle isole ci è stato praticamente sconsigliato. Faremo un'escursione alle Kurok Island, ci verranno due ore di navigazione per arrivare ma toccheremo tante bellissime spiagge, ci sarà tanto mare e quindi è proprio per questo che oggi andremo tutto di GoPro Ci sono un po' di nuvole in cielo, ogni tanto dirà un po' di vento quindi sembrerebbe un clima ideale per fare un'ottima escursione Andiamo! Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Adesso noi ci andiamo a mangiare una cosina e poi niente ci facciamo un altro po' di snorkeling e poi torniamo perché da dove siamo noi adesso per tornare a Puget ci vogliono due ore quindi è tanta strada. No. Grazie a tutti. No. 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 No.